E' nello straordinario paesaggio del Chianti, più precisamente presso le cantine Antinori, che Wisman ha deciso di chiudere il ciclo di sei convegni 2013 dedicati alla sostenibilità e all'efficientamento energetico. La domotecnica presso i convegni di Wisman propone questo concetto che ha ben poco di rivoluzionario nella teoria, ma nella pratica è molto molto nuovo, di Arcipelago Green. Nella sostenibilità bisogna utilizzare diverse tecnologie e diverse energie. E' fondamentale il mix di tecnologie e energie per creare un sistema di efficienza energetica. Non bastano le tecnologie ma servono anche i mix di competenze. Progettista, architetto e installatore devono assolutamente trovare un dialogo, trovare linguaggi comuni e strumenti comuni. Domotecnica è una rete, è una rete di 1250 aziende di installazione, che vuole parlare in maniera stabile con progettisti e architetti. All'interno della rete domotecnica ci sono anche dei partner e Wisman è uno dei nostri partner strategici con cui stiamo facendo un percorso da molti anni per la diffusione dell'efficienza energetica. Dobbiamo lavorare insieme, lavorando insieme portiamo vantaggio al cliente e anche un po' al pianeta, visto che l'efficienza energetica poi si traduce in meno consumi. Dobbiamo lavorare in rete.